Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Ora vedremo insieme il tanto atteso protocollo di intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19. Finalmente ce l'abbiamo e possiamo leggerlo insieme e commentarlo. Ora, io non leggerò ogni passaggio, ma i punti principali. Innanzitutto, una delle introduzioni del Ministero è un servizio di Help Desk per le istituzioni scolastiche. Quindi si può richiedere assistenza via web, prenotare la chiamata oppure contattare il numero verde che vi lascio qui. Sarà attivo dal 24 agosto, quindi di fatto dalla ripresa della scuola, dal lunedì al sabato, quindi dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Quindi questo Help Desk dovrebbe aiutare a raccogliere sia domande, perplessità, segnalazioni su quella che è l'applicazione delle misure di sicurezza e anche dare proprio assistenza. Saranno anche attivati un tavolo nazionale permanente, composto dal Ministero, dal Ministero della Salute e dalle organizzazioni sindacali che avrà la funzione di confrontarsi continuamente sulla gestione dell'eventuale emergenza, un tavolo di lavoro permanente presso ogni USR di cui faranno parte sempre le organizzazioni sindacali e i rappresentanti dell'USR e poi incontri continui tra il Ministero e le organizzazioni sindacali nell'eventualità in cui siano necessari. Il Ministero si occuperà di Invitare le istituzioni scolastiche a comunicare alle famiglie e agli studenti e ai lavoratori tramite i vari canali di diffusione. Quindi di fatto, in realtà, sarà poi l'istituzione scolastica a comunicare con queste persone. Monitorare l'utilizzo delle risorse assegnate. Supporto per la formazione anche in modalità online sull'uso dei DP. I DP sono i dispositivi di protezione individuale. Fornire per tramite della direzione generale assistenza amministrativa. Reattivare la collaborazione istituzionale con il Ministero della Salute, il commissario straordinario, l'autorità garante. Vediamo la necessità di fare a tutti i test diagnostici, sia per gli statali, sia per i paritari e anche per i supplenti, quando inizieranno le lezioni. Quindi prima di iniziare le lezioni sarà fatto un test diagnostico in modo tale per controllare la salute del supplente, dell'insegnante. Saranno anche effettuati dei test a campione sulla popolazione studentesca in modo periodico. Speriamo. Saranno adottati vari criteri, quindi volontarietà di adesione al test, sarà gratis e si farà verso, si farà presso le strutture di medicina di base e non a scuola. Inoltre, sarà la scuola a fornire le mascherine per il personale scolastico e per gli studenti in condizioni di lavoratore, anche i gel disinfettanti e ulteriori DPI per i docenti di sostegno. Questo è molto importante perché i docenti di sostegno avranno il diritto ad avere dei DPI in più. Apro una parentesi per quanto riguarda l'utilizzo delle mascherine. Io penso che verranno fornite sicuramente le mascherine chirurgiche che, come ben sappiamo, hanno un utilizzo e un'efficacia limitata. Quindi, effettivamente, mi chiedo, penso che forse sarebbe potuto essere organizzato in modo diverso perché il docente che deve magari fare una lezione di un'ora parlare con la mascherina avrà molte difficoltà. Io vedo, per esempio, in posta gli operatori che hanno il loro plexiglass dietro e che quindi riescono a comunicare con i clienti in modo sicuro e anche a parlare. quindi io avrei sinceramente preferito che le varie cattedre fossero organizzate con una sorta di cabbiotto passatemi il termine per proteggere il docente ma soprattutto per permettergli anche di parlare perché anche per chi ha problemi respiratori o soffre per esempio di di altre patologie l'uso della mascherina così prolungato diventa molto difficile nel caso in cui soprattutto si debba parlare perché stare in silenzio con la mascherina si può fare parlare 4-5 ore non proprio comunque si vedrà come andrà vediamo anche l'esigenza di spazi aggiuntivi per lo svolgimento dell'attività scolastica anche per i gestori delle scuole paritarie e poi ci dovranno essere approfondimenti sugli alunni con disabilità anche per un accomodamento ragionevole sull'utilizzo dei docenti di sostegno e anche degli assistenti viene prevista una procedura standardizzata per gestire e segnalare alla AS i casi sospetti di covid al momento non è stata però ancora fissata prevista entro metà mese di agosto anche qui e rimaniamo in attesa dunque il 24 chi ha il ruolo torna a lavoro comunque il medico competente dovrà effettuare la sorveglianza sanitaria è anche eccezionale soprattutto tenendo conto dei lavoratori fragili ci vogliono anche delle misure per i lavoratori fragili che al momento non ci sono entro l'inizio del prossimo anno arriveranno sospendiamo il giudizio andiamo avanti diciamo che burocratese un po' per quanto riguarda il fatto che ogni istituzione debba coinvolgere le parti integrare il documento di valutazione rischi l'esigenza di garantire le modalità di comunicazione con le rappresentanze sindacali bene andiamo avanti cosa si stabilisce beh allora innanzitutto viene detto che il covid è un rischio biologico generico per cui bisogna adottare misure uguali per tutta la popolazione che seguono la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'autorità sanitaria ogni istituto dovrà tutelare e seguire delle linee guida tutelando in questo modo le persone presenti all'interno il dirigente scolastico che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali è raccapricciante questa definizione per prevenire la diffusione del virus deve informare con un'appauta comunicazione studenti e famiglie il dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell'istituto circa le disposizioni delle autorità il dirigente scolastico di fatto ha una grande responsabilità speriamo che capiti un dirigente scolastico illuminato alla maggior parte di noi le informazioni riguardano se avete la febbre dovete stare a casa c'è un piccolo problema il solito che ho già espresso in un altro video per quanto riguarda le linee guida per l'infanzia allora qui i ragazzini sono più grandi e dovrebbero loro misurarsi la febbre a casa non dire mammina misuramela tuttavia diranno si si misurata tutto a posto e andranno a scuola quindi io continuo a ripetere che inserire dei termoscanner come ci sono in tanti locali anche in ristoranti eccetera forse sarebbe stato meglio non si può entrare a scuola se siano sintomi influenzali quindi da novembre poi i ragazzi comunque non andranno a scuola perché mediamente da novembre anche ottobre in una classe abbiamo almeno la metà con raffreddore tosse mal di gola che sono sintomi influenzali speriamo che siano veramente a casa poi occorrà rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del dirigente quindi il distanziamento fisico di un metro anche qui i detrattori della dad dicono dobbiamo tornare a scuola per socializzare ma occorrà mantenere il distanziamento fisico di un metro quindi che razza di socializzazione ci sarà osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene poi ci sarà una formazione un aggiornamento in materia di dad e covid anche qui siamo in grande attesa trepidante perché la formazione e l'aggiornamento in materia di didattica digitale da dove arriverà il ministero farà un corso delle video lezioni fruibili per tutti i milioni di insegnanti che ci sono in Italia anche qui in attesa obbligo per ciascun lavoratore di informare il dirigente scolastico della presenza di qualsiasi sintomo influenzale qui mi rivolgo ai colleghi statevene a casa ogni volta che vi prude il naso ogni volta che avete un po' di tosse ogni volta che sentite che sta per arrivare l'influenza a questo punto statevene a casa perché chiaramente questa è una presenza di sintomi quindi voi dovrete stare a casa e con questi stessi sintomi dovranno stare a casa gli studenti cosa che invece con la dad non sarebbe accaduta perché anche se mi prude il naso anche se un po' di tosse e anche se Lucchino ha un po' di tosse io comunque la lezione gliela posso fornire e lui la può ascoltare invece qui io voglio vedere da ottobre novembre come sarà la situazione perché tutti hanno sintomi influenzali io a scuola mi ammalo sempre l'anno scorso ho avuto più di almeno sono stata a casa per due volte per influenza intestinale presa ovviamente dai ragazzi che venivano a scuola e non stavano bene quindi mi domando dato che la maggior parte ha sempre sintomi influenzali come faremo? non ci saranno lo stesso di fatto forse la dad avrebbe dato la possibilità di garantire un altro tipo di frizione della scuola io avrei pensato piuttosto alla modalità della dad per le lezioni e verifiche e interrogazioni a turni in presenza forse sarebbe potuto organizzare così soprattutto parlo per la scuola superiore capisco che per l'infanzia sia più difficile ma un ragazzo di 13 anni può rimanere a casa da scuola alla mattina oppure andarci per fare i compiti le verifiche o con i turni è meglio che infettarsi tutti modalità di ingresso e di uscita anche qui ci sarà una segnaletica e una campagna di sensibilizzazione non ci dovranno essere file o se ci saranno file però a distanza ogni scuola dovrà disciplinare le modalità di uscita quindi adesso io mi immagino tutti i dirigenti che saranno in che già stavano preparando sicuramente e staranno pensando a come far entrare i ragazzi come farli uscire a modo tale che non si scontrino tra di loro va ridotto l'accesso ai visitatori comunicazione a distanza limitazione degli accessi registrazione dei visitatori ammessi quindi anche recapito nome e cognome eccetera differenziazione dei percorsi interni ed esterni segnaletica orizzontale pulizia e reazione frequente e adeguata degli spazi speriamo bene anche su questo ultimo punto si può essere accompagnati alla struttura attraverso l'accompagnamento l'accesso alla struttura è con un solo genitore o un delegato la pulizia dovrà essere giornaliera anche qui è quasi commovente questa frase perché io ricordo la scuola non sempre come il luogo più lindo e pinto di solito anche i bagni non questa ormai è un po' una frase che sentite tutti che diciamo tutti però di solito non c'è neanche la cartigianica ma ora avremo il gel igienizzante dappertutto io ci spero veramente immagino che ci saranno molte difficoltà comunque sia nel piano di pulizia almeno ogni giorno ambienti di lavoro e aule palestre arre comuni il ristoro e mensa i servizi igienici e gli spogliatoi le attrezzature e postazioni di lavoro ad uso promiscuo il materiale didattico e ludico e le superfici comuni non toccate i passamano non toccate le pulsantiere e io sto anche pensando di portarmi un piccolo spray e di passare almeno la cattedra quando dovrò appoggiarci i gomiti perché è chiaro che tra un'ora e l'altra non si potrà pulire comunque quindi le istituzioni scolastiche assicurano quotidianamente le operazioni di pulizia utilizzeranno un materiale detergente con azione virucida garantiranno l'adeguata a reazione di tutti i locali mantenendo costantemente o il più possibile aperti gli uffizi esterni dei servizi igienici vabbè dei servizi igienici sì il problema non è in bagno dove non c'è l'assembramento il problema è in classe dove comunque sia per il momento ancora non leggo di questa grande divisione degli studenti e regolare la detergenza del superficie e gli oggetti destinati all'uso degli alunni anche noi dovremmo adottare precauzioni igieniche abbiamo visto i dpi saranno quelli previsti dalla valutazione del rischio mentre per chi fa sostegno giustamente potrà avere ulteriori dispositivi per quanto riguarda la disposizione degli spazi comuni l'accesso agli spazi deve essere contingentato quindi tutto deve essere calcolato anche le aule professori possono essere usate nel rispetto del distanziamento fisico o i locali adibiti a mensa scolastica sempre con le regole di distanziamento area di distribuzione di bevande snack sarà il dirigente indicarle le modalità di utilizzo anche qui a mio parere è un po' difficile mantenere l'area snack e bevande nel momento in cui comunque si crea sempre una fila e una calca possono essere organizzate le attività didattiche nei locali esterni all'istituto chiaramente penso fino a ottobre e poi da marzo a maggio forse ci sarà un supporto psicologico spero molto anche per i docenti perché qui la situazione appare abbastanza demenziale ci sarà un rafforzamento degli spazi di condivisione di alleanza tra scuola e famiglia il ricorso ad azioni di supporto psicologico ne avremmo avuto bisogno anche in questi momenti disposizioni relative ecco questo è molto importante ora parte il sarcasmo che serve per sdrammatizzare un po' questa situazione particolarmente critica come facciamo però se c'è un sintomatico all'interno dell'istituto scolastico del fatto che già vi metto le mani nei capelli perché vorrebbe dire che se vedo un ragazzino che inizia a soffiarsi prepotentemente il naso o inizia a tossire fortemente io lo devo segnalare quindi nel caso una persona sviluppi febbre o sintomi di infezione respiratoria quali tosse dovrà essere isolato speriamo che se ne stiano a casa già prima quando hanno la tosse però anche qui ogni tanto ha qualche colpo di tosse un po' di mal di gola io non andrò a guardare le faringi degli studenti vabbè comunque di conseguenza che si fa? bisognerà isolare il ragazzo e bisognerà dovrà essere dotato di mascherina criurgica e poi dovrà essere rimandato a casa sua per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per qualsiasi caso sospetto la presenza di un caso confermato ovviamente poi vede l'attivazione di un monitoraggio da parte della scuola perché potrebbe essersi diffuso il virus e poi si valuteranno le misure idonee viene detto sarebbe opportuno quindi se non è obbligatorio difficilmente si farà prevedere un referente per l'ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici per il contact tracing che questo l'ho già letta questa definizione cosa diavolo è il contact tracing vabbè per avere un efficace tracciamento un contatto ma quindi il contact tracing è un sistema di raccordo tra sistema scolastico e sanitario quale misura innovativa di grande rilievo veramente il contact tracing è una misura innovativa di grande rilievo soprattutto nel contesto emergenziale in atto è un sistema di monitoraggio di allerta precoce attivato sul territorio nazionale speriamo bene disposizioni relative a sorveglianza sanitaria medico competenza rls il medico competente collaborerà con il ds con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel proporre tutte le misure di regolamentazione legate al covid-19 ci sarà una commissione per monitorare l'applicazione delle misure descritte in ogni istituzione scolastica presieduta dal ds poi abbiamo le disposizioni finali gli usr e l'amministrazione assicurano il necessario supporto ai dirigenti perché che cosa dovremmo fare rimodulare l'unità oraria si pensava a lezioni da 45 minuti avviare una contrattazione nazionale per regolare il rapporto di lavoro svolto in modalità agile per il personale tecnico ausiliario quindi il personale tecnico ausiliario magari potrà lavorare anche da casa bisognerà anche cercare di sostituire il personale docente a tassente per evitare lo smembramento delle classi o l'insufficiente vigilanza degli spazi mi immagino tutto il giorno dire state lontani non avvicinatevi un po' come quando i punti verdi con i bambini dici loro non salite su quel gioco non andate su quell'albero che lì molti magari lasciano fare lasciano fare poi se il bambino cade anche da mezzo metro succede il finimondo quindi meglio essere super cauti e proibire tutto a questo punto perché qui siamo in una grande responsabilità bisogna approfondire il fenomeno relativo ai docenti fragili ancora qui si attende e incrementare le risorse garantire anche in serie di recluocatamento la necessaria continuità didattica in particolare per sostegno questo è stato letto approvato sottoscritto ormai quindi abbiamo questo protocollo di intesa spero di avervi spiegato questo protocollo ho anche lasciato qualche mia riflessione personale perché credo che presenti molte falle molte criticità e credo che dia molta responsabilità ai dirigenti scolastici che sono delle persone quindi ognuno di loro è diverso ci saranno dirigenti che sicuramente lavoreranno in modo incredibile sebbene questo protocollo a mio parere piuttosto impreciso e confuso e sarà compito dunque dei dirigenti e della scuola organizzare tutto una grande responsabilità in un momento di emergenza dove non ci sono gli spazi dove ci sono le classi sovraffollate ricordiamo che per le superiori il massimo numero sono 30 io alle superiori da studentessa avevo 25 compagni di classe quindi quando sei 25 in un'aula anche aprendo ogni tanto la finestra tu ti ammali e prendi tutte le rogne degli altri è sempre successo e da insegnante mi sono resa conto che mi ammalo anche io quindi fantastico speriamo comunque sia a questo punto speriamo che la situazione rimanga entro queste linee che sono state tracciate anche se comunque io non escludo la possibilità nel caso in cui ci fosse una ricaduta speriamo tutti ovviamente di no del ritorno della dad che a mio parere è stata molto criticata ma in realtà è un'opportunità ed è uno strumento che tutela tutti si è fatta così ed è è un'opportunità è un'opportunità